Vedi l'uomo nella foto? È il nostro leader e saprà salvare questo paese. Cerco qualcuno che guidi l'unità di intelligence delle SS. Il potere ha bisogno di uomini nell'ombra, che proteggano i più importanti segreti. Sapete come lo chiama il Führer? L'uomo dal cuore di ferro. Non è una missione come le altre. Mai nessun altro gerarca nazista è stato assassinato. Io voglio sapere ogni suo movimento. Heidrich deve morire. Stiamo vivendo un momento unico della storia. Tutti i nemici della nostra nazione saranno eliminati. Quella donna non mette in pericolo solo la sua vita, ma quella di tutti noi. Promettimi che ne uscirai vivo. Tutte le organizzazioni della Resistenza saranno annientate senza pietà. Ora basta! È una missione suicida. Siete pronti a morire? È in gioco il nostro futuro. Fuoco! Via! Arrivano. Eilidla! Viva! 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 Tornerò a prenderti. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite non perdetevi il nostro blog blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV sono gratuite. Ciao!